ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video girando un po' a casaccio su instagram ho visto delle foto di lookwood caroline e anche delle foto delle mie amiche appunto che indossavano dei vestiti però ho detto oddio ma non l'ho mai visto questi vestiti allora però c'è non avevano detto niente non avevo detto sono nuovi vestiti eccetera e allora sono andata a fare un po qualche ricerca e ho visto tipo da un posto di una ragazza inglese che erano nuovi vestiti e quindi ho deciso di vederli insieme a voi perché io ne ho li ho ancora visti però prima il poverino curiamo tigro se non vuoi di fame di acqua di sete e perfetto allora leggi tutto il riguardo sul fronte lo vai dei piani che partirete con la collezione va bene un'altra collezione comunque perché non lo sapesse ha vinto squadra zucchero filato perfetto perché io sono però vabbè andiamo a vedere qualche bandoli magari anzi no perché poi con i bandoli si spoleremo tutto allora ready niente di nuovo ma io penso più vestiti qualcosa di nuovo esatto infatti qui sono le voci voglio comprare questo un giorno benissimo allora vediamo torso niente vestiti si se ne sono alcuni nuovi oddio o meglio oddio oddio è stranissimo se è un alieno con una gomma tutta spaziale no ribea perché comunque l'abbinamento questo nero ci ciao questo verde scuro con questi colori bellissimi oddio no non è un bell'abbinamento questo qui è 1300 fa coins sta cagata dai raga ho capito che magari ecco il fronte rovo ed è nuovo però sta cagata cioè basta che ti metti un asciugamano c'è qualche differenza però comunque quasi la stessa cosa è la stessa cosa è orribile secondo me devo stare 900 massimo non 1300 però vabbè questo qua è carino questo qua che è più bello sta 900 però comunque è carino questo è carino poi questo qua è un costume penso anzi adesso io vi dico andiamo dire ciao andiamo direttamente sul nuovo già ci siamo spoilerati le ali siamo spoilerati tutto bellissimo comunque belle queste sono carine sono carine oddio però sono troppo a basse c'è sul culo c'è dicono dovrebbero arrivare sulla schiena oddio e devo essere così metto una coda aspettato perché avanti oddio ah questa cosa ventimila oddio però è carino dai non è malissimo queste sono belle queste sono belle queste lo voglio comprare questo è lo zaino lo zaino oddio però è un peccato che poi ti toglie le ali però è bellissimo raga è stupendo le nuove sopracciglia i pati oddio cosa sono queste cose oddio sembra slime sembra che ti hai nato la slime ma sono io che sto scecando malamente però è carino e infatti melma no no ecco melma sembra che ti sei scecato malamente questo qua questo qua è inutile che dico che è la cosa più bella del mondo nuovi capelli bruttini oddio sono belli però a me non stanno molto bene perché ho dei capelli su avatar che sono stupendi però quando me li provo mi stanno proprio uno schifo uno schifo uno schifo uno schifo questi sono carini li compro non li compro no te non li compro perché domani cioè perché prima ho fatto un'offerta e quindi domani mi potrebbero arrivare i ventimila vacoins facciamo una cosa quando domani mi arriveranno i ventimila vacoins e magari non me lo prometto però magari farò un video su instagram dove comprerò qualcosina però non penso che mi sto considerando i vacoins per una cosetta che non voglio ancora spoilerare poi questo è carino oddio si sono carini però oddio oddio c'è questo quasi l'indiano dai non ci andremo in giro però vabbè questo qua questo qua è carino lo dico solo perché è rosa questo qua lo compro lo comprirei con piacere ah oddio che poi c'è proprio il sole in testa e poi mi scotto scusate ma gira lo sto vedendo di rara se non manca noi lo sto vedendo di rara che sono io sto vedendo a girare le cose vabbè detective sentimenti passare il tempo celebrità stretching solare questo qua è bello però mi ricordo che è bello pantaloni nuovi sono bruttissimi sono più belli questi scusate sono belli però questi qua sono belli perché mi piace il colore però oddio c'è un pallino che dice se fa il signore vittoria what non ho aspettato bello carino carino vabbè anche da questo terreno questo qua è quello è quello di prima è quello di prima è quello di prima questo qua non l'abbiamo visto però eccovi scusate comunque poi c'è questo costume da bagno però sotto si vede il vero costume da bagno però non lo facciamo vedere bellino è carino poi c'è quest'altro qui che pure è bello però come costume da bagno ah questo qua è tutto il costume si vede tipo così è bello è carino però sembra la camicia da notte facciamo cioè gente fatelo dire sembra la camicia da notte però ora io voglio comprare qualcosa perché in realtà questo mi piace mi piace quindi non so se aspettare che mi arrivano i soldi e comprarlo oppure compro l'ora però se che vi dico che forse lo compro l'ora vabbè se dai compriamolo ormai ci siamo compriamolo mettiamo magari il certo partire l'atore no perché sennò poi partiremo con allora mettiamo quello vada mettiamo dei pei capelli comunque il video finisce qui iscrivetevi mettete like commentate mi raccomando seguitemi su istra su istra su instagram ma e a volte faccio cioè sto anche cercando di fare dei concorsi dei giveaway che però farò solamente su istra non si vinceranno grandi perché non saranno anche su youtube però comunque questi concorsi che si può vincere una maglietta o qualcosa però solo su istra e a volte vi spiego anche il perché non lo pubblico quando lo pubblico video però niente ragazzi seguitemi e iscrivetevi al canale ciao